Ricordati di cliccare su mi piace, iscriviti e attiva la campanella. C'era anche lui in quel Bologna che nel 74, per la precisione il 23 maggio, vinse la seconda Coppa Italia della sua storia, quella strappata al Palermo, che ancora recrimina per un rigore generoso, concesso a Bilgarelli al novantesimo minuto che portò la partita ai supplementari. Il fallo, o presunto fallo, fu di Arcoleo. Avete capito chi è questo famoso giocatore? Aveva sposato la regina dei salotti dell'epoca, Daniela Seragnoli, la sorella di Giorgio, l'ex patron della fortitudo. Un colpo di fulmine che si trasformò poi in una lunga storia d'amore. Ma di chi stiamo parlando? È morto all'età di 73 anni, Angelo Rimbano, ex rosso-blu e imprenditore. Afflitto da una malattia neurodegenerativa, da tempo Rimbano non stava bene. Della sua morte, avvenuta la scorsa settimana, si è appreso solo nelle ultime ore. Ricordatevi di lasciare un pollice in su, per noi è importante, grazie. Per restare aggiornato, iscriviti al canale e attiva la campanella.